Attenzione, si ripunta delle aziende, ok ragazzi di sopra? Bene, bene, vi sentiamo, ora vi sentiamo. Tutti in pianeta da l'interno della sera, i primi coraggiotti di questa sera, siamo quasi proprio a partire. 3, 2, 1, vai! Oggi, la pagina di due ragazzi, si ripunta delle aziende. Ma dovrebbe arrivare pure con noi ragazzi, ragazza, ci sono altri, dai! Venti, la pagina! Venti, la pagina! E il massimo divertimento ragazzi, avvicinatevi pure la tutta pagina, raga! Venti, la pagina! Sono raggiunti i miei ripassi, eh, tranquilli, la pagina vediamo giù. Ma che spazio, è così, va! E' così, lo spazio, è così, lo spazio, è così, lo spazio pure! Venti, ragazzi, mi piace per la bella vista, è arrivato il momento di iniziatare, arriviamo con il film, ci troviamo lì! E' così, lo ritaglivano, scende! E' così, lo spazio, è così! Allora, ragazzi, non ce ne è che devo sapere dire, ma qui, è così, lo spazio, ragazzi, si verrà finesse articolato, e tenete pure l'informazione che ci ci accadde di sotto, e quindi... Grazie.